Pronto, Ventura! Buonasera! 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 Buonasera, è una disfatta! Beh, insomma, pensiamo le parole, perché direi che bisogna ringraziare me e la squadra, e tutto il gruppo, insomma, e la federazione, perché insomma, in qualche modo, in qualche modo, abbiamo scritto la storia, era da 60 anni che non succedeva, e quindi... Non c'è da vantarsi della cosa, però... Come si dice, nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli. No, 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 direi bene nel bene! Vedo oggi su tutti i giornali, su tutte le TV, vedo il mio faccione, è molto d'orgoglio. Non sono mai stato così famoso, quindi sono contento anche per i calciatori, a partire da Andrea Barzagli, un anno e mezzo fa, aveva finito le rompe in lacrime, Sì, me lo ricordo, sì. Cioè, no, nessuno si ricorderà di noi. Vero, sì, l'aveva detto. Gli ho detto, dopo oggi, Andrea, non ti preoccupare che si ricorderanno tutti di quello che abbiamo fatto, quindi è importante. Non è una cosa positiva, è una cosa abbastanza negativa. Ecco, a questo punto la domanda che fanno tutti, mister, si dimetterà? Ce lo dica. Penso che questa è una domanda che non ha una gran logica. Non ha una gran logica, sì. Non ha una gran logica, sì, che ha logica. Siamo comunque arrivati i secondi nel Gerone, mi sembra tutt'altro che un fallimento. Non siamo andati ai mondiali, mentori. E come dire, a chi è secondo nel campionato di Serie A, la Juventus, di dire ad Allegri che si deve dimettere. L'ho detto, non è da tutto riuscire a non fare neanche un gol alla Svezia in due partite, quindi ci vuole del lavoro, ci vuole della disorganizzazione importante, ed è giusto che mi prenda i miei meriti. Vabbè, i meriti, insomma. Poi, se posso, ne approfitto per lasciare un messaggio di speranza a tutti gli italiani. Ho un contratto fino all'europeo, potremmo anche ottenere una storica non qualificazione all'europeo. Ah, una doppietta, sì. E fare così, esattamente. Una doppietta clamorosa che mi porterebbe nell'Olimpo del Calcio e nella storia. Penso che nessuno sia mai riuscito a non qualificarsi per un mondiale europeo. Penso che è un obiettivo raggiungibilissimo, ci sono tutte le premesse. E comunque, fatemi dire, l'ultima cosa, dato che agli ultimi mondiali ho visto tante critiche per Prandelli, per lì, eravamo usciti in girone e ho messo in pratica la mia teoria. Certo, la teoria. Non puoi uscire dal giro in dei mondiali, se alla fine non ti qualifici neanche. Ha vinto lei, ha vinto lei. Siamo usciti prima, giustamente. Ha vinto lei, mister. Ha vinto lei, ha vinto lei. 105 Autogol